Possiamo pensare ad un'asse Fiore Colasio? È un'ipotesi che andremo a verificare assieme con il Movimento 2020. La sua preferenza dunque la fa già intendere Andrea Colasio. Assessore uscente nella giunta che Ivorossi è ereditato, il responsabile della cultura a Padova ora rappresenta una delle possibili stampelle all'elettorato di Fiore per gonfiare la propria possibilità di vincere. Quello che manca oggi al centro-sinistra è uno sforzo per immaginarsi Padova fra dieci anni. Io su questo sto lavorando. Dopo lo strappo tra Pidì e Fiore che ha scelto di correre comunque nonostante la sconfitta del 2 febbraio, ma le primarie di coalizione sono una follia, dice Colasio. Tanto più che Padova 2020 in quanto Movimento dal Basso non negozia i suoi punti. Qui le careghe non c'entrano, dice. Il sindaco reggente, a mio giudizio, avrebbe dovuto interpretare le primarie in modo competitivo. Ha ritenuto di non farlo, a mio giudizio, sbagliando. Ed è successo quello che è successo. Nessun favore alla destra, dice Colasio, perché si presenteranno frantumati. E allora il vero nodo è che fare al ballottaggio che tutti danno per certo. Ballottaggio immagino che sarà una situazione molto, molto aperta. Quello che sta succedendo ha riaperto i giochi. Non ci sono più certezze. Tutti pensavano che la partita fosse già chiusa. La partita riparte oggi. È una partita nuova. Si parte da 0 a 0. E lancia il suo appello a Fiore. Troveremo anche le modalità con cui le nostre diverse proposte politiche potranno convergere su un unico obiettivo, far crescere Padova, reinventarsi la nostra città.